allora oggi siamo venuti in motorino con il mio amico luigi ciao luigi ciao a tutti siamo saliti sul monte yanming ok qui adesso c'è un lago un laghettino e poi saliamo sulla cima che si chiama cishin sette stelle ok ciao ciao questo rumore viene da questa specie di lucertolina arrivati al bivio andiamo verso cishin peak e si vede un po questo è il sentiero la strada di montagna con di fianco dell'erba alta sono sicuramente del bambù quindi si cammina molto bene qua dentro al cishin peak ci sono degli uccendini un po tipo delle quali una lucertola una lucertola con la coda blu va bene no no pensavo peggio hai sudato sì parecchio però ancora mi reggono le gambe siamo arrivati sulla cima est vediamo un po il panorama quello deve essere jinsan jelio questa è il taipei city siamo arrivati in cima alla seconda cima di cishin questo è il panorama tantissima gente naturalmente questo è il palo che dice appunto quanti metri sono sono 1120 e qua si vede taipei siamo un po sudati ma non è così difficile anzi è stato molto bello vi consiglio a tutti di venire ricordate che si parte da Lenshoi Khan è stato difficile lo rifaresti? si a taiwan ok andiamo dai in fretta danger stay away a taiwan è tutto pericolosissimo mettono sempre cartelli da tutte le parti perché hanno paura che qualcuno si faccia male che uno faccia il bagno e muoia e perché è fatto così ui mamma mia cos'è un rospo? le libellule carine carine questi rane che fanno che ridono le libellule le rane i rosti allora tu andavi al mare quando dicevi? quando ero piccolo andavo almeno dovevo attallando al mare all'isola d'Elva in Toscana e cosa facevi al mare? mi ruotavo facevo i tuffi dalle scogliere facevo le immersioni mi trovavo a calcio sulla spiaggia i castelli li facevi? i castelli di sabbia? i castelli di sabbia? appunto fratello no da piccolo si le scimmie guarda che belle andiamo oh mamma mia ciao guarda che bagno guarda che bagno che ha trovato questa? perfettura guarda la famiglia di scimmie ecco dopo la montagna siamo venuti al mare a Paisagua cioè la piaia della sabbia bianca ma la sabbia è molto gialla Luigi com'è andato il bagno? benissimo è stato uno dei più bei bagni della stagione veramente fantastico ho diventato i mili più bene appositi no dai grazie no dai grazie ok andiamo tutti a contramontare il sole ciao alla prossima